Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Gesù e mio Re, eccomi alla fine di questa novena, con il cuore pieno di Te e la forza di amarti ogni giorno di più. Signore, donami il Tuo Santo Spirito per lasciare tutto quello che mi tiene lontano da Te e ricominciare a vivere veramente in Te e con Te. Mio Gesù, ho capito che prima di chiederti la grazia che desidero, devo allontanarmi dal peccato. Prima di ricevere la grazia che tanto desidero, io devo tornare ad essere pulito da ogni errore commesso. Sono qui, mio Signore e mio Re, ad affidarti tutto e allodarti e proclamarti, Re del Cielo, Re della Terra, Re della mia vita e Re del mio cuore. Amen. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a Te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti. Alleluia! Cristo vince, Cristo regna, Cristo impera. Viva Cristo Re! Io voglio regnare nel vostro cuore. Io cerco ovunque delle anime fedeli, degli apostoli, a cui possa fare delle confidenze, ma ne trovo così poche. Perché lo predico, riacquisto e santifico le anime sulla croce. Ora, questa croce, la maggior parte dei miei amici, l'hanno in orrore. Ma voi, che mi amate sinceramente, offritemi il vostro amore, i vostri sacrifici, i vostri desideri di santità. Offritemi spesso le vostre comunioni riparatrici. Siate degli apostoli di fuoco. Guadagnatemi delle anime, contemplate il mio cuore, che ha tanto amato gli uomini. Contemplatelo colmo di obbrobri nell'ostia divina. Sentite i palpiti del suo amore. Guardate le fiamme di carità, che lo divorano. Piccole anime, ostie semplici, e dimentiche di voi stesse. Eccovi, il mio cuore. Io ve lo dono in cambio del vostro, cattivo e ingrato. Lo accettate. Allora, tendetemi le vostre mani. Apritemi le vostre anime, per ricevere il dono supremo della mia misericordia redentrice. Tenete gli occhi fissi sulla ferita del mio cuore e contemplate, attraverso questa piaga divina, quel cuore che vi ha tanto amato. Eccolo, tutto vostro, nel bracere ardente del santo altare, nella santa carestia. Ma, ahimè no, il mio amore, il mio grande amore, non è amato. E io riprovo le angosce dell'agonia. Anime riparatrici, strappate oggi le spine che circondano il mio cuore. Ora di gioia per voi, ma soprattutto, ora di gloria per me. Dio prigioniero, che vi offro il mio amore, ma che attendo il vostro in cambio, siate i miei angeli consolatori. Sostenetemi nella mia agonia mistica. Venite, eccovi il mio cuore, che non ha mai smesso di amarvi. Accorrete in fretta, giacché io ve lo voglio affidare come pegno di resurrezione. Venite, in cambio del mio cuore, datemi il vostro. Consacratemi le vostre anime e la vostra intera vita, con le sue gioie e le sue sofferenze. Siate miei, non chiedo che il vostro amore. Amen Grazie per la visione! Grazie per la visione!